Il bond medio sul mercato rende poco, magari rende 4,5% o 5% ed esiste un 15% di bond che invece rende 8, 9, 10, anche 11% in euro. Quindi esiste una parte del mercato che offre ritorni attesi importanti e una parte del mercato, la parte media o mediana del mercato che invece è poco interessante. Ben tornati all'ascolto dell'Algebris Podcast, io sono Marta Pizzamiglio e oggi parliamo di mercati insieme a Gabriele Foa, Portfolio Manager di Algebris Investment. Ciao Gabriele. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo nell'ultimo trimestre dell'anno, come sempre tempo un po' di bilanci per i mercati finanziari. Dopo i grandi rialzi dei tassi del 22-23, questo è stato l'anno in cui i mercati hanno cercato un po' di indovinare la direzione dei tassi. Vissi però i più recenti accadimenti sui mercati, inizio però subito con una domanda a lampo, ovvero recessione sì o recessione no? Ma a livello globale direi recessione no. Quest'anno c'è stato un rallentamento nei dati, ma in generale è difficile parlare di recessione. Gli Stati Uniti hanno avuto un mercato del lavoro e un'economia molto forte nel 2023, quindi il metro di paragone era alto, e un rallentamento soprattutto sul mercato del lavoro in giugno-luglio. Quando guardiamo i dati nel proprio insieme però è molto difficile parlare di recessione. L'economia americana sta creando quasi 200.000 posti di lavoro al mese, quando uno prende la media trimestrale, e il tasso di disoccupazione è intorno al 4%, quello che storicamente gli economisti definiscono tasso naturale o la media storica, quindi decisamente lontano da livelli recessivi. La crescita rimane intorno al 2-2,5%, dipende dalle stime, quindi vicino al potenziale, e il consumatore è ancora in buona salute. È vero che una parte dei risparmi accumulati durante il Covid è stata spesa, ma è anche vero che i bilanci dei consumatori, i bilanci delle famiglie rimangono in ottima forma. Fuori dagli Stati Uniti la situazione è un pochino diversa, forse un pochino più lenta, però anche qui non è una situazione disastrosa. In Cina vediamo un rallentamento verso il 4,5% rispetto al 5%, che è il target dell'autorità, però questo rallentamento sta portando come risultato l'incremento di stimoli e di attenzione da parte dell'autorità. L'Europa forse è la parte del globo dove la crescita è più preoccupante. Sicuramente il consenso è sempre stato intorno all'1% per il 2024-2025, e i dati di fine estate rendono chiaro che i rischi sono al ribasso, quindi la Germania è a crescita zero e anche la periferia, la Spagna e l'Italia, stanno un pochino rallentando rispetto all'1% registrato nella prima parte dell'anno. Quindi in Europa vediamo sicuramente una tendenza più debole, però quando guardiamo ai dati globali nel proprio insieme, soprattutto negli Stati Uniti, è difficile parlare di recessione. Un punto finale molto importante, la policy a livello globale è ancora un elemento di supporto, perché la politica monetaria è vero che i tassi sono saliti, però le condizioni finanziarie negli ultimi 9-12 mesi sono cominciate a scendere, perché gli spread di credito sono più bassi, le valutazioni dell'equity sono più alte, la parte lunga della curva sta scendendo, e infatti i tassi sui mutui americani hanno cominciato a scendere, quindi pressione dal punto di vista monetario non è troppo alta, e l'accomodamento invece dal punto di vista fiscale è enorme. Ricordiamo gli Stati Uniti hanno 6% di deficit, in Europa ci sono vari paesi con 4-5% di deficit, quindi il supporto da parte della politica fiscale, ma in generale da parte della policy è molto ampio e solitamente è difficile vedere una recessione globale con tanto supporto da parte della policy. Chiaro, parlando invece di politica monetaria, visto che è l'ultima cosa che hai menzionato, ci faresti magari un confronto tra Fed e BCE, e soprattutto che cosa è andato finora, cosa è successo e cosa ci possiamo aspettare da qui alla fine dell'anno? Assolutamente, allora non si può parlare di recessione, come dicevamo, però quello che è successo nel 2024 è un cambiamento del bilancio dei rischi per le banche centrali. Dalla fine del 2021 il grande rischio, il grande spauracchio è stato l'inflazione, sia perché il livello dell'inflazione è salito notevolmente, sia perché tutte le componenti dell'inflazione in qualche modo erano problematiche. E ovviamente questo è stato un tema per le banche centrali, perché ricorderete il famoso transitori di Powell, all'inizio le banche centrali hanno un pochino messo il problema in un angolo, si sono mosse il ritardo sull'inflazione. Quest'anno l'inflazione è considerata sotto controllo, sicuramente fa molto meno paura alle banche centrali. L'inflazione globale adesso è intorno al 4%, dopo aver avuto un picco vicino al 10%, questo è lo stesso livello della seconda metà del 2021, quindi decisamente un livello che fa pensare che siamo tornati sotto controllo, e l'inflazione core, che è la misura più pulita dell'inflazione negli Stati Uniti e in Europa, è intorno al 3% e questo rende facile mettere il target del 2% all'interno dell'orizzonte di proiezione. Quindi le banche centrali ti possono dire nei prossimi 12-15 mesi torniamo al 2%. Quindi in un momento in cui, ok, non c'è recessione, ma i dati si stanno indebolendo, il fatto di avere un'inflazione che sembra sotto controllo, anche in tutte le sue componenti, il residenziale, i servizi, i beni, fa propendere le banche centrali a spostarsi dall'inflazione come rischio principale e andare sulla crescita. Quindi la direzione, diciamo così, nei prossimi mesi è quella di tagliare quando possibile piuttosto che alzare quando possibile o piuttosto che guardare all'inflazione, soprattutto in un momento in cui i tassi reali sono molto elevati. Detto questo, Stati Uniti e Europa hanno dinamiche diverse, l'Europa probabilmente è stata all'inizio troppo hawkish, oppure troppo, diciamo così, aggressiva dal punto di vista dell'inflazione, ha tagliato timidamente in luglio e poi ha detto che il taglio successivo sarebbe stato in settembre, saltando poi ottobre e andando a novembre. Gli ultimi dati hanno reso chiaro che un pochino di urgenza per tagliare c'è e adesso sostanzialmente la banca centrale sta comunicando un percorso di taglio dei tassi molto più sostenuto. Per quanto riguarda la Fed, invece, probabilmente il problema è stato opposto. Abbiamo cominciato con un taglio di 50 punti base in settembre, primariamente perché Powell era preoccupato del mercato del lavoro e adesso è chiaro che il tasso di disoccupazione e la condizione dell'economia non giustificano un andamento così deciso. Entrambe le curve a questo punto scontano 5-6 tagli nei prossimi 6-7 meeting e quindi un tasso finale intorno al 3,25 negli Stati Uniti e 1,5 in Europa. In Europa probabilmente quello che il mercato sta scontando è appropriato, negli Stati Uniti con un'economia forte, anche se l'inflazione è sotto controllo, probabilmente il mercato sta scontando troppo. Quindi la BCE, entrambe le banche centrali, più focalizzate sull'inflazione, la BCE deve essere più accomodante, sulla Fed il rischio che i tagli siano un pochino minori delle attese c'è. Ok. Restando negli Stati Uniti, non dimentichiamoci che da qui alla fine dell'anno c'è uno degli eventi più importanti, insomma, che ci toccheranno un po' tutti, ovvero le elezioni presidenziali 5 novembre. Ragionando un po' sull'agenda dei due candidati, secondo te volevo chiederti quali potrebbero essere gli impatti sull'economia americana e quindi i mercati? Sì, allora, il rischio più grande che deriva dalle elezioni americane è una rifocalizzazione del mercato sul tema fiscale. Il tema fiscale è un tema che a livello globale ha visto un deterioramento importante negli ultimi cinque anni e è stato guardato un po' poco forse dal mercato. Negli ultimi cinque anni abbiamo visto un passaggio di testimone dalla politica monetaria alla politica fiscale per quanto riguarda il ruolo di supportare l'economia e anche i mercati. L'inflazione era troppo alta, quindi il mondo era abituato alle banche centrali e il testimone è passato alla politica fiscale come, diciamo così, depositario del dovere di supportare l'economia. Da dopo il Covid, in generale, regole fiscali nei paesi avanzati non si sono più viste e anche gli Stati Uniti hanno cominciato a spendere in maniera molto importante. Basti pensare che nel 2023 gli Stati Uniti hanno avuto un deficit totale intorno al 7% del PIL con una crescita del 3%, ovvero hanno speso tanto in un anno in cui non era necessario spendere tanto perché l'economia alla fine stava andando abbastanza bene. In più i tassi di interesse ora sono un pochino più alti rispetto al 2020-21 quando erano a zero e quindi il costo di interesse, che è una metrica che contribuisce al deficit americano, continua ad aumentare e questo aumenta la pressione fiscale. Entrambi i candidati propongono delle piattaforme con grandi spese fiscali, soprattutto Trump che propone una piattaforma che costa tra i 5 e i 6 trilioni di dollari nei prossimi 10 anni, quindi circa 15% del PIL del 2023, un po' meno Harris che però dovrebbe spendere comunque intorno ai 3 trilioni, se prendiamo diciamo così per buona le proposte della loro piattaforma. Quindi entrambi i candidati spenderanno tanto. Il treasury americano è intorno al 4%, che è un livello non diverso dal due anni, che vuol dire che sostanzialmente la curva non ha premio di termine, non ha nessun premio fiscale e la duration americana non ti paga per i rischi fiscali associati all'emissione del governo. Quindi il rischio fiscale, il tema fiscale è uno dei rischi più importanti. Nel momento in cui abbiamo le elezioni possiamo avere una rifocalizzazione del mercato su questo tema e questo porterebbe a un irripidimento della curva e a una sofferenza della duration, soprattutto in un momento in cui la duration ha fatto così bene, il mercato è così, diciamo così, ottimista sull'inflazione, i tassi e in generale sul tema della duration. Un altro rischio che è più associato alla vittoria dei repubblicani, che probabilmente adesso è un pochino sottoprezzata, è quello delle tariffe. La piattaforma repubblicana propone delle tariffe molto importanti mai viste prima, 10% su tutti i paesi e 60% sulla Cina. Anche se poi in pratica dovesse riuscire a fare 10, 20, 30% di queste tariffe, l'impatto sul dollaro e sull'inflazione americana sarebbe importante. Quindi questo sarebbe un altro elemento che porterebbe a una contrazione delle condizioni finanziarie globali, quindi tassi più alti, probabilità di inflazione più alta e forse un pochino di rafforzamento del dollaro. Quindi le elezioni americane sono decisamente un fattore di rischio sul mercato fixed income, soprattutto in un momento in cui il mercato è molto ottimista e arriviamo ad un rally importante sui tassi e sul credito. E l'agenda invece della politica estera, dei due candidati? Ricordiamoci che ci sono purtroppo due conflitti in atto e c'è possibilità di escalation. Quali sono le implicazioni, insomma, se dovesse vincere uno piuttosto che l'altro candidato? Cambierebbe qualcosa effettivamente, secondo te? Assolutamente. Allora, in generale, la politica estera probabilmente avrebbe un pochino più upside per il mercato nel caso di una vittoria dei repubblicani. Trump è dell'idea, diciamo così, che non bisogna supportare l'Ucraina ed è l'idea che il conflitto in Medio Oriente vada in qualche modo calmato. Quindi entrambe le cose sono positive per il mercato. Il conflitto in Ucraina, soprattutto, potrebbe essere una delle grandi sorprese del 2025. Rispetto al conflitto in Medio Oriente è in una fase più matura e, se vogliamo, distarlo. E una delle ragioni chiave per cui il conflitto aumenta è il supporto finanziario importante all'Ucraina da parte degli Stati Uniti. Quindi, considerando che entrambe le parti hanno mostrato un certo appetito per negoziati e discussioni, nel momento in cui il supporto finanziario all'Ucraina dovesse scendere, l'incentivo a un accordo potrebbe aumentare. E questo, secondo noi, è uno degli upside risk chiave per il mercato del 2025, in questo caso soprattutto per l'Europa. Il conflitto in Medio Oriente, probabilmente sotto una gestione repubblicana, anche si tranquillizzerebbe. Chiaramente abbiamo un mese fino alle elezioni, la situazione tra Israele e Iran è molto... Ogni giorno ci sono notizie nuove. Esatto, è molto tesa e, in un certo senso, esiste una finestra di opportunità per Israele nel prossimo mese. Quindi quello è un conflitto che probabilmente diventerà peggiore prima di diventare migliore. Una cosa importante in generale per le politiche post-elezioni è che non conta solo chi va alla Casa Bianca, per la politica estera forse un po' di più, ma conta molto anche la composizione del Congresso. Per la politica fiscale il Congresso è chiave, per la politica estera e politica commerciale è meno importante, ma dà comunque una legittimazione più forte al Presidente, soprattutto in caso di dover prendere provvedimenti grandi come quelli proposti. Quindi il focus del mercato sarà sulla Casa Bianca, ma la composizione del Congresso forse è tanto importante quanto chi vince le elezioni. Certo. Parliamo invece di Cina, perché l'hai menzionata più volte e ricordiamoci che le autorità cinesi hanno aumentato gli stimoli. Questo sembra aver dato più fiducia forse agli investitori, ma secondo te è giustificato l'entusiasmo recente? Sì, no? Quanto durerà l'effetto soprattutto? Allora, con quello che abbiamo visto finora l'entusiasmo non è giustificato, nel senso che negli ultimi cinque anni abbiamo visto molta riluttanza da parte delle autorità cinesi a supportare l'economia. Questo è stato vero anche in momenti difficili, diciamo così, verso la fine del Covid o quando abbiamo avuto un'ondata di fallimenti sui property developers nel 2022 e quindi in generale la leva della politica fiscale viene usata poco. Quello che è successo in settembre e ottobre è che abbiamo visto un rallentamento della crescita, per cui il target di crescita del 5% del governo sembra sempre più difficile da raggiungere e il governo ha cominciato a muoversi verso una sorta di stimolo. Prima abbiamo visto qualche taglio ai tassi di interesse e poi abbiamo visto un annuncio di potenziale stimolo fiscale nei prossimi mesi. Lo stimolo fiscale dovrà essere notevole per avere un impatto sul mercato e non è detto che lo sia. Negli ultimi 5 anni lo stimolo più grande sono stati 5 trilioni di yuan avuti dopo il Covid, quindi durante la riapertura e uno stimolo invece più sostanziale di 9-10 trilioni di yuan l'abbiamo avuto solamente dopo la crisi del 2008 quando avevamo dei forti flussi in uscita di capitale dai mercati emergenti. Quindi in generale per stimoli grandi come quello che vuole il mercato li abbiamo avuti storicamente solamente durante eventi molto più importanti, molto più distruttivi rispetto a quello corrente. Vedremo cosa il Politburo, il governo annuncia nella seconda parte del mese ma è ragionevole aspettarsi che il rally della Cina possa continuare su uno stimolo che sia almeno 2-3 trilioni di yuan e devo dire la verità forse anche qualcosa di più. Il motivo per cui la Cina si è mossa così tanto adesso è che rispetto agli Stati Uniti avevamo una situazione valutativa veramente bassa basti pensare che il tech cinese era 7-8 volte gli utili contro il tech americano che ovviamente è 40-50 volte e possiamo fare lo stesso tipo di parallelo su tutti i settori quindi la Cina è molto sottovalutata non era presente nei portafogli dei grandi investitori e è bastato pochissimo per avere un pochino di riaggiustamento. Affinché il rally sia sostenibile dobbiamo vedere di più soprattutto in una situazione in cui lo stimolo americano a livello fiscale è stato incomparabile rispetto a quello cinese negli ultimi tre anni quindi quando guardiamo quanto la politica americana la politica fiscale americana abbia sostenuto il mercato americano contro politica cinese e abbia sostenuto quello cinese il risultato è enorme, il gap è enorme e quindi dobbiamo vedere un grosso step da parte dell'autorità cinesi per convincere gli investitori che il gap si stia colmando. Assolutamente. Spostiamoci invece, ultima domanda mercato del credito, la tua specialità considerando tutto quello che ci siamo detti quali sono secondo te le prospettive? Allora, il mercato del credito è anche in un momento estremamente difficile siamo in un momento in cui gli spread di credito sono estremamente compressi dopo che si erano allargati tanto nella stagione dei grandi rialzi quando prendiamo il credito a yield europeo abbiamo avuto i massimi nell'estate del 2022 a 650 punti base adesso siamo vicini ai 300 punti base meno della metà che è uno dei livelli più bassi degli ultimi 5-6 anni quindi sostanzialmente la parte facile o se vogliamo più di pancia del rally del credito è decisamente avvenuta quindi è un mercato in cui comprare beta o comprare generalmente spread è difficile la cosa positiva è che la dispersione nel mercato rimane estremamente elevata rispetto a momenti in cui gli spread sono stati comparabili ad oggi se vediamo c'è una parte del mercato che è rimasta indietro lo spread tra la singola B e la tripla B è elevato lo spread tra la tripla C e la doppia B è elevato mercati emergenti in valuta locale mercati emergenti nel segmento high yield rimangono molto indietro rispetto alla parte invece più di qualità quindi esiste una dispersione nel mercato e grazie al fatto che i tassi di interesse sono alti il bond medio sul mercato rende poco magari rende 4,5 o 5% ed esiste un 15% di bond che invece rende 8,9,10 anche 11% in euro quindi esiste una parte del mercato che offre ritorni attesi importanti e una parte del mercato la parte media o mediana del mercato che invece è poco interessante quindi questo è un ottimo momento per focalizzarsi sulla prima parte chiaramente la prima parte è una parte dove i rischi ci sono e quindi la gestione attiva diventa più importante è un momento in cui la gestione attiva torna a essere importante sul mercato del credito ci sono ritorni attesi interessanti su alcune aree perché i rendimenti composti della parte più ciclica non sono mai stati così elevati ma in un mercato dove gli spread overall sono compressi è più difficile comprare indici è più difficile comprare diciamo così la parte più di qualità o la parte media del mercato quindi gestione attiva e selezione dei titoli è chiave per fare bene nei prossimi mesi va bene grazie Gabriele per i tuoi spunti invito i nostri ascoltatori ad andare a leggere l'ultimo report scritto dal team di Gabriele it's not easy like Sunday morning disponibile sul sito Algebris e grazie Gabriele e grazie a tutti per l'ascolto grazie a voi grazie a tutti